Una grande importanza viene data alle famiglie, ai nostri clienti che devono spostarsi, che devono andare in vacanza con i bimbi. Questa attenzione inizia dalla selezione delle strutture, per cui hotel, villaggi che abbiano una particolare proposta economica, bambini gratis, piani famiglia, camere idonee, perché trovare una camera quintupla oggi come oggi diventa una vera impresa, senza dimenticare tutte quelle che sono gli annessi e connessi, servizi relativi ai bimbi, dalle biberonerie, ai mini club, all'assistenza, all'animazione. Per cercare di spiegare al meglio tutti i servizi e la selezione che Frigerio Viaggi compie per questo target di clientela così importante, ogni anno sia in primavera che nell'invernale invitiamo le nostre famiglie, clienti famiglia, a degli incontri pomeridiani dove cercando di tenere impegnati i bimbi con maghi, animatori e giochi di vario genere, i colleghi con tour operator, per cui con i fornitori e gli agenti, danno tutte le informazioni del caso ai genitori che riescono ad occuparsi delle vacanze con tranquillità, sapendo che i loro figlioli si stanno divertendo in nostra compagnia.